ciao ragazzi nuovo video riordino un angolo della mia cucina in collaborazione con tiziana nel canale sorrisi azzurri e vi voglio dire che il primo video in collaborazione per quanto riguarda l'organizzazione la pulizia della mia cucina ma non farò in questo video tutta l'organizzazione e non pulirò tutta la mia cucina ma solo un angolo quindi solo due cassetti e poi se si chiamerà questo video come leggerà il titolo riordiniamo la cucina primo step prima parte primo step e se vi piace questo video ne faremo altri in collaborazione con tiziana se non vi piace questo qui sarà l'ultimo diciamo di questa serie potrebbe essere la prima il primo video di una lunga serie ma se non vi piace questo sarà il primo e l'ultimo di questa serie di questa organizzazione e pulizia della cucina visto che siamo quasi in primavera voglio pulire e con la voglia di pulire diciamo la cucina e la casa in generale per l'arrivo della primavera ho deciso di collaborare con tiziana e lei anche è stata molto gentile e quindi iniziamo questo video pulirò appunto svuoterò due cassetti nella cucina lei riordinerà un angolo della sua cucina e poi vi lascio il link giù nell'info box del suo canale iniziamo subito voglio dirvi adesso sono in camera per fare questa intro e dirvi che sono contenta della collaborazione con tiziana anche lei dirà quello che dico io e farà vedere nella sua cucina quello che riordinerà io riordinerò due cassetti per farvi vedere come le riordino come li pulisco eccetera eccetera anche velocemente vi faccio vedere quello che ho dentro non so ancora se metterò la musica o se parlerò ma spero comunque che vi piaccia questo genere di video io adoro vedere questi geni questo questo tipo di video non so parlare e iniziamo subito cià si gira volevo direvi scusate parlo troppo in cucina adesso c'è la luce perché sono le 9 del mattino c'è la luce del sole quindi verrà tutto giallo sicuramente ma spero che comunque si veda bene a presto iniziamo 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 Grazie a tutti. 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 Ci mettiamo da questa roba dentro. Grazie a tutti. 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 Ok. fuori da pulito e in ordine ok ho pulito a modo mio due cassetti uno quello dei contenitori uno quello delle pentole poi in altri video pulizie di primavera vlog eccetera ho pulito altri angoli della cucina altri angoli della casa spero vi sia piaciuto questo video ne lo caricherò subito stasera grazie per la collaborazione Tiziana non non è un video insegno io a pulire vi insegno a pulire comando io come pulisco io dovete pulire anche voi no è un video io pulisco in un modo e un'altra ragazza appunto in questo caso Tiziana pulisce in un altro sono stagga morta e comunque spero vi piaccia questo video io adoro i video di pulizie anche se io non sono brava come Terry Prodan o altri comunque spero vi piaccia questo video spero vi sia piaciuto vale finito non vedo l'ora di vedere il video di Tiziana e a presto ciao ciao